Un algherese di 32 anni questa notte è stato arrestato dai carabinieri, l'uomo si è recato a casa dell'ex convivente e secondo la ricostruzione dei militari l'ha aggredita dopo aver sfondato la porta di casa, per la cronaca c'è forte preoccupazione in città per i numerosi furti e le attività commerciali. Ieri consiglio comunale aperto per discutere della probabile chiusura del tribunale di Alghero, in via Colombano si sono avanzate anche alcune proposte per scongiurare tale ipotesi, intanto l'eventuale apertura della base Ryan e Radolbia sarebbe un'ulteriore mazzata sul territorio così come la cancellazione della gara automobilistica Alghero-Scala Piccada. Per lo sport il calcio in eccellenza si gioca la terza giornata, l'Alghero va a Gavoi, il Fertilia ospita il Carbonia e va a caccia della prima vittoria stagionale. Parleremo anche del trofeo Macci di Vela e di automobilismo con la vittoria di Sergio Farris nello slalom di Nuoro. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati con l'informazione su Catalan TV. Come avete sentito dai titoli apriamo il nostro telegiornale riferendovi di una notizia di cronaca, arresto dei carabinieri della compagnia di Alghero. Questa notte i militari sono intervenuti a casa di una donna in città dove sono scattate le manette ai polsi di un 32enne algherese. L'uomo, dopo essersi recato nell'abitazione dell'ex convivente, ha sfondato la porta e dopo una discussione avrebbe aggredito la donna che ha riportato delle contusioni in alcune parti del corpo. Non sono chiare le cause dell'azione violenta ma pare per vicissitudini regate al rapporto affettivo tra i due. Il 32enne è stato fermato dall'intervento dei carabinieri guidati dal comandante Giorgio Guerrini ed è stato trasferito a Sassari dove davanti al giudice dovrà rispondere dell'accusa di danneggiamento, minacce e lesioni. L'uomo non aveva precedenti. E continuiamo con la cronaca perché non si ferma la scia di furti che stanno colpendo le attività commerciali e in qualche caso anche le abitazioni private ad Alghero. I commercianti però hanno paura per la sicurezza delle proprie attività e chiedono ancora più controllo. Dopo l'episodio che ha visto vittima poi una signora ottantenne aggredita in casa è necessaria però più attenzione anche da parte della popolazione. E allarme in città per i numerosi furti perpetrati ma anche per i diversi tentativi di scasso che negli scorsi giorni hanno visto prese di mira alcune attività commerciali cittadine. Da tabacchini a bar, gioiellerie, da supermercati a pizzerie e in ultimo anche un panificio sembra che ormai il fenomeno sia crescente. Questo crea preoccupazione tra i commercianti in specie al modo del centro storico parte della città che risulta più colpita che si trovano a dover fare i conti con i danni che ignoti scassinatori fanno agli ingressi delle loro attività e in alcuni casi anche all'interno. È stato chiesto di incrementare ancora di più i controlli che le forze dell'ordine compiono già in maniera massiccia quotidianamente. Questo per cercare di far desistere i ladri dal commettere altri colpi. Ma tant'è che le persone iniziano ad avere paura. L'episodio che ha visto vittima, ad esempio la signora Ottantenne, residente in via Toscana, giovedì, aggredita da un finto operaio e finita al pronto soccorso con dieci giorni di cure, deve far tenere alta l'attenzione anche da parte della popolazione che seguendo proprio i consigli delle forze dell'ordine deve controllare al meglio chiunque bussi alla propria porta, specialmente se è straneo. Lasciamo la cronaca, passiamo alla politica. Ieri il consiglio comunale aperto per discutere della probabile chiusura del tribunale di Alghero in via Colombano. Esponenti politici presenti hanno anche avanzato alcune proposte per scongiurare tale ipotesi. Difficile però che il tribunale possa sopravvivere ai tagli previsti dal Ministero. Un consiglio comunale aperto alla società civile per dire no alla chiusura della sezione del tribunale di Sassari presente ad Alghero. Ieri pomeriggio si sono riuniti nella massima sese cittadina i consiglieri comunali insieme ai colleghi regionali e nazionali e istituzionali, oltre che le categorie produttive rappresentanti del consiglio direttivo dell'ordine forense. Tutti insieme per analizzare la situazione e scongiurare quello che sarebbe un duro colpo per il territorio, non solo per quanto riguarda il servizio garantito ai cittadini dell'area vasta che fa Cappadalghero, ovvero 19 comuni, ma anche per l'indotto economico che verrebbe sottratto alle attività del centro catalano. Ad aprire i lavori è stata la Presidente del Consiglio Esposito, per la quale è importante cogliere questo grido che giunge dal nostro territorio. Poi il Sindaco Lubrano, che ha ricordato come quella intrapresa, è una battaglia per la nostra città ed è una battaglia disperata contro chi ci vuole togliere il pane. Per il deputato Melis questa forte centralizzazione dei servizi è sbagliata e crea solo ulteriori problemi a territori come quello sardo che non possono essere paragonati ad altre zone d'Italia, in cui ad esempio i collegamenti viari e non solo sono efficienti e non come in Sardegna. E poi Melis ha ricordato il detto meglio che manchi il pane ma non che manchi la giustizia, aprendo poi la strada alle soluzioni, ovvero sull'immobile a disposizione del Comune. E il consigliere regionale Mario Bruno ha segnalato come uno spiraglio ci sia ed è legato all'articolo 8, in cui si parla delle spese riguardanti le sedi distaccate. Infatti la struttura di via Columano è di proprietà del Comune, dunque i costi per il Ministero sono praticamente azzerati. Giornata particolare questa per la difesa di Alghero, ha ribadito Bruno. Parola poi all'altro consigliere regionale, Fois. Oggi il grande assente è il Ministero della Giustizia, ha subito spiegato ed ha continuato un dicastero gestito in maniera astrabica dove si va a colpire le zone periferiche, dimenticando gli sprechi dello Stato centrale. L'allarme dell'ex sindaco Ted è chiaro, qui rischiamo di essere non soltanto isolati ma anche desertificati. E oltre al pericolo in corso Ted ha avanzato l'ipotesi di utilizzare gli spazi della biblioteca di via Mazzini, trasferita presso l'ex ospedale vecchio, per ospitare almeno il giudice di pace, se non anche il Tribunale, idea condivisa anche dal consigliere Tanchis. E proprio dal Consiglio Comunale di ieri vi proponiamo le parole della Presidente del Consiglio Gabriele Esposito che ha introdotto l'argomento rispetto alla chiusura del Tribunale all'Assemblea Civica e agli esponenti lì presenti. Ci tengo a dire che la convocazione è nata in maniera, direi, forte e in maniera anche spontanea. La Presidenza del Consiglio è stata in questo senso sollecitata, contattata dagli Avvocati prima di tutto, questo va riconosciuto, ma subito e immediatamente in città si è attivato un meccanismo che ha coinvolto non solamente gli addetti ai lavori, quindi gli Avvocati, gli operatori del mondo della giustizia, coloro che prima di tutto usufruiscono dei servizi del Tribunale, dei servizi naturalmente degli uffici giudiziari, ma dicevo si è immediatamente creato intorno appunto questa esigenza, questa possibilità di avere un'occasione di dibattito quale quella del Consiglio Comunale, dicevo si sono subito fatte intorno e avvicinate a questa iniziativa tutte le forze, come ho già ricordato, del mondo produttivo, le forze viva e della nostra città, le associazioni e i sindacati. Ed ora invece sentiamo le parole dell'ex sindaco Ted, è stato lui ad avanzare alcune proposte per salvare sia il Tribunale che il Giudice di Pace, ma sentiamo un altro estratto dal Consiglio di ieri. Sono convinto che se non riusciamo a tenere il Giudice di Pace è inutile tenere il Tribunale, è inutile tenere la sezione staccata del Tribunale. serve a poco, a molto poco, quindi la battaglia deve essere su questi due fronti, il Giudice di Pace è Tribunale, è Tribunale. E io faccio una proposta in relazione al Giudice di Pace. Io credo che la scuola media di Diamazzini, che oggi viene utilizzata come biblioteca, abbia spazi sufficienti per ospitare il Giudice di Pace. I risparmi di cui parlava l'Avvocato Carboni, dell'attuale sede del Giudice di Pace, potrebbero essere utilizzati per il personale amministrativo. Questa è una proposta, magari da approfondire, da esplorare meglio, però è una proposta concreta. Non piangiamo, facciamo proposte concrete. Cerchiamo di capire quali possono essere gli strumenti che ci consentono di fare un passo ulteriore, magari non di risolvere il problema, ma di fare un passo avanti. Poi ci siamo fermi, poi ci siamo completamente paralizzati. E questa potrebbe essere una soluzione. E poi credo che comunque i nostri parlamentari, i parlamentari del territorio, che sono coloro che effettivamente possono incidere, non è facilissimo, è difficilissimo. Perché abbiamo capito che comunque il Ministro Severino, non dovendo poi rispondere ad alcun territorio, è molto determinata. Però, siccome i nostri parlamentari comunque hanno la possibilità, in Parlamento, di dire la loro sui provvedimenti del Ministro Severino e del Governo, credo che il nostro sindaco, con i parlamentari, magari anche con la delegazione di consigli comunali, il capigruppo, i nostri consigli regionali, credo che debbano tentare con tutte le forze di incontrare il Ministro Severino, così come hanno fatto i galluresi. Ed è stato convocato per lunedì 1 ottobre il Consiglio Comunale. La seduta sarà aperta, come sempre è accaduto, dalle brevi segnalazioni. E poi si passerà a discutere i punti all'ordine del giorno, nei quali è presente, come unico provvedimento dell'amministrazione, la circonvallazione che collegherà il sud con il nord di Alghero. Ecco poi i vari punti inseriti. L'interrogazione è presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Alghero su un malfunzionamento del depuratore, il completamento della nuova sassare Alghero Primo Lotto nel tratto di circonvallazione di Alghero, l'importo complessivo dell'opera di 10 milioni e 500 mila euro, e poi tutta una serie di documenti da discutere redatti dal Popolo della Libertà. Ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare su istituzione Ufficio Europa e poi modifica Statuto Parco Regionale di Porto Conte e ancora la mozione sull'approvazione del regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali. E infine un'altra mozione, sempre del PDL, su esclusione dell'applicazione IMU nelle regioni a Statuto Speciale. Trasporti sui mezzi di informazione nazionali è rimbalzata la notizia dell'eventuale apertura di nuove basi della Ryanair in Italia, compresa una sede ad Olbia, un'ipotesi che andrebbe a creare grossi svantaggi ad Alghero. Sentiamo. Siamo su scherzi a parte. Verrebbe da dire questo registrando le dichiarazioni del numero uno della Ryanair Michael Coley. Nella serata di avanti ieri ha comunicato il piano di investimento che prevede l'apertura di 5 nuove basi, tra cui Olbia. Se così fosse Ryanair, sarebbe presente su tutti e tre gli scali sardi e visto il numero di passeggeri, Alghero rispetto a Cagliari potrebbe subire maggiori svantaggi. Oltre questo, come al solito, si avanza come contropartita una richiesta di forti garanzie allo Stato. Tagliate le tasse aeroportuali e noi continueremo ad investire. Questa è un'estrema sintesi, ha detto Coley, che è articolato in questo modo come riporta panorama. È impossibile fare tariffe low cost se aumentate le tasse, aggiunto. Al governo diremo che espanderemo il turismo e porteremo nuovi posti di lavoro se ci saranno tasse aeroportuali più basse. Ci sono due alternative, o si tengono tasse alte e si rinuncia al turismo, o si riducono o si tolgono e allora avrete più turismo e nuovi posti di lavoro. Un ragionamento tutto sommato giusto. È Alghero nella testimonianza di come, grazie alla Ryanair, il turismo regga e ci sia un continuo flusso di villeggianti che raggiungono la riviera del Corallo e in generale il Nord Sardegna, grazie ai voli del vettore irlandese. Ma come diciamo da tempo, la compagnia di Coley investe negli scali dove viene sostenuta con dei contributi pubblici, si possono chiamare marketing, ma arrivando dalla regione sempre pubblici sono, oppure dove c'è un importante volume di transiti che permette di sviluppare alti guadagni. Se manca uno dei due presupposti, come è accaduto più volte in passato, Ryanair dice bye bye, ma queste idee vanno a cozzare con quanto ribadito dai presidenti della regione, prima solo poi cappellacci, e poi dal ministro Passera riguardo alla suddivisione, in base alle peculiarità del territorio, degli aeroporti sardi, Alghero low cost, Olbia turismo e business alto profilo, e Cagliari aerostazione strategica. Bene, se anche Olbia dovesse andare ad ospitare una base Ryanair, questo schema andrebbe a cadere, ed è palese che il Costa Smeralda svilupperebbe, visto l'apertura di nuovi collegamenti su un territorio vergine, una crescita immediata di passegiri sia outgoing che in going, tutto a svantaggio di Alghero e del suo territorio, che sicuramente non potrebbe reggere il confronto con Olbia, e tanto meno con Cagliari. E parliamo di pulizia delle strade adesso, perché la prossima settimana il mezzo meccanico dell'Aimeri Ambiente passerà in via Kennedy. Le operazioni di spazzamento della strada saranno effettuate nelle seguenti giornate, martedì 2 ottobre da via Ciutarrat a via Manzoni, venerdì 5 ottobre dalla via Manzoni alla piazza Sulis. Il divieto di transito e parcheggio è stabilito dalle ore 8 alle ore 9 e 30. E parliamo adesso della chiusura della pesca del corallo, che sarà posticipata il 15 novembre prossimo e fino a tale data, quindi i pescatori professionisti in regola con le autorizzazioni potranno esercitare la raccolta del loro rosso. La Giunta regionale ha infatti dato, mandato di provvedere all'estensione del periodo di pesca all'assessore dell'agricoltura Oscar Cherchi, che lo aveva proposto allo stesso esecutivo. Oggi stesso, ha commentato l'assessore, firmerò il decreto che stabilisce la proroga, spostando la chiusura dal 30 settembre al 15 novembre. Il periodo di pesca del corallo rosso, come stabilito con la delibera di fine aprile scorso, si estende dal 15 maggio al 30 settembre. Era doveroso quindi, conclude l'esponente della Giunta, che ai corallari fosse concessa la possibilità di allungare la stagione di pesca per recuperare le giornate iniziali non usufruite. Ed ora diamo la linea alla regia, ritorniamo subito dopo c'è la pubblicità.